Quello al quale abbiamo assistito alla riunione dei capigruppo è stato uno spettacolo indegno. La Presidente Casellati evidentemente in accordo con il Vice Presidente del Consiglio Salvini ha convocato una riunione dell'Aula domani alle 18 senza i termini previsti del regolamento, senza aver alcun precedente, facendo una forzatura gravissima quando nella capigruppo c'era l'accordo a maggioranza su un calendario che avrebbe previsto l'Aula il 20 ascoltando Conte che veniva a riferire sulla crisi le cui conclusioni sono a tutti ovviamente note. Quella comunicazione si sarebbe conclusa con una votazione e con la fine della storia di questo bruttissimo governo, di questo anno e pochi mesi di pessimo governo. Invece si è voluta fare un ennesimo oltraggio al Parlamento, ai diritti dei singoli parlamentari. Si vuol impedire di seguire le regole democratiche, si vuol permettere al Ministro Salvini, al Vice Presidente Salvini di dettare l'agenda della crisi. La Presidente Casellati non si doveva prestare. È gravissimo perché significa piegare il regolamento a chi ha deciso dalla spiaggia che ha presentato la mozione di sfiducia la crisi e ancora una volta col tentativo magari domani di poter ribaltare la decisione assunta a maggioranza dei capigruppo. Ovviamente questo è una collocazione politica. La Presidente avrebbe dovuto mantenere a nostro avviso un profilo che forse è un pochino più neutrale, visto proprio la situazione di crisi. Il primo dato che emerge chiaro da questa conferenza di capigruppo è che c'è un 103 straunito che vota allo stesso modo, che però non è maggioranza nella attuale conferenza di capigruppo. Credo che proporre di venire in aula il giorno della commemorazione dal primo anno del Ponte Morandi sia oggettivamente qualcosa di quasi incommentabile. Io avrei preferito commemorare questo giorno con una revoca delle concessioni autostradali che era quello che questo Governo si era promesso di fare e non solamente il Movimento 5 Stelle. Invece c'è qualcuno che vuole pensare a quel momento con un momento in aula dove si parla di sfiducia al Governo.